Barbara, parliamo di Libriamoci, parliamo di tutto questo progetto che sicuramente è iniziato bene ma si è concluso anche molto bene. Certo, il dirigente ha avuto una grande intuizione che era quello di coinvolgere tutta la scuola e quindi di non limitare la partecipazione al progetto solo ad una sezione, a qualche classe. Ma tutto l'iter che già il dirigente ha descritto ha avuto un risultato meraviglioso perché ha coinvolto anche le famiglie. Le famiglie sono state infettate da questa onda di positività, da questa riflessione che è scaturita dalla lettura che è poi diventata azione, consapevolezza della necessità di prenderci cura del territorio in cui viviamo. Al punto che un genitore soprattutto ci ha fatto dono di un albero, cioè è entrato nel nostro progetto proprio perché ha compreso quanto la scuola stia lavorando per il bene degli alunni, per la loro crescita che poi è la mission della scuola. Che il dirigente ha tenuto tanto proprio a puntualizzare quest'anno. La formazione a 360 gradi dei nostri alunni perché diventino cittadini consapevoli dei buoni cittadini. E' bello quello che dice, quello che ha detto anche il Preside, perché dobbiamo dire che nella scuola c'è bisogno di vivacità, c'è bisogno di consapevolezza, ma soprattutto di considerare la scuola una comunità. Certo, noi siamo una comunità, noi da soli oggi spiegavamo addirittura in classe, leggevamo Pirandello, no? Pirandello ci parla di punti di vista, di visione, la verità che ci rende felici è una verità che si conquista attraverso il confronto con gli altri. E la scuola promuove questo confronto, si passa dal libro alla riflessione, alle idee condivise e poi all'azione. Devo dire che c'è questo clima veramente di confronto, di condivisione quest'anno, di serenità, che tutta la scuola sta respirando. E ora l'abbiamo dimostrato anche con un look nuovo in questa scuola, che può essere legato alla piantumazione di fiori, può essere legato ad un albero, ma è certamente legato alla condivisione e al confronto di idee.